Elezioni amministrative 2022, uno speciale, una maratona, un appuntamento per seguire minuto per minuto le amministrative che si svolgeranno nei comuni siciliani, con particolare attenzione naturalmente su Palermo e Messina, ma anche negli altri comuni che sono 120 in Sicilia. Una diretta che partirà alle ore 15 lunedì, seguiremo minuto per minuto lo spoglio di queste elezioni amministrative. Non perdetevi questo appuntamento, ci saranno collegamenti con le principali segreterie politiche, ma anche con tanti personaggi protagonisti della politica e del giornalismo specializzato. Dunque, lunedì 13 giugno a partire dalle ore 15 su Tele One Elezioni amministrative 2022. Vi aspettiamo!